In questo tutorial andremo a studiare i domini di funzioni goniometriche inverse. Partiamo dalla prima funzione, arcoseno di x. Per andare a determinare il dominio di arcoseno di x, dobbiamo imporre come condizione che l'argomento di arcoseno, ossia x, deve essere compreso tra meno uno e uno estremi inclusi e allora il dominio di arcoseno di x sarà costituito da tutti i valori compresi tra meno uno e uno inclusi. Generalizziamo ora arcoseno di x con arcoseno di f di x. La prima condizione che dobbiamo imporre è che f di x, essendo argomento di arcoseno, deve essere compresa tra meno uno e uno inclusi, più, per determinare il dominio, devo aggiungere eventuali condizioni che derivano direttamente da f di x. Passiamo ora alla seconda tipologia, arcoseno di x. Funziona nella stessa identica maniera di arcoseno di x, ossia devo imporre che l'argomento di arcoseno di x deve essere compreso tra meno uno e uno inclusi e allora il dominio di arcoseno di x è composto da tutti i valori compresi tra meno uno e uno inclusi. Generalizzando arcoseno di x con arcoseno di f di x, per andare a determinare il dominio di questa funzione, certamente devo porre come condizione che l'argomento di arcoseno, ossia f di x, deve essere compreso tra meno uno e uno inclusi, più eventuali condizioni che derivano direttamente da f di x. Infine studiamo arco tangente di x. Di per sé l'arco tangente non ha nessuna condizione da offrire, ossia il dominio di arco tangente risulta essere uguale ad r. Generalizziamo ora in arco tangente di f di x e allora per andare a determinare il dominio di arco tangente di f di x, l'unica cosa che devo andare a controllare le eventuali condizioni che derivano da f di x. Vediamo ora degli esempi. Partiamo da questa funzione di cui vogliamo andare a calcolarne il dominio. L'argomento di arcoseno risulta essere pari a 5x meno 6, che sarà il nostro f di x. La condizione che dobbiamo imporre è che l'argomento di f di x, ossia 5x meno 6, deve essere compreso tra meno 1 e 1. Riscriviamo ora questa catena di disequazioni come un sistema di disequazione, andando a scrivere 5x meno 6 minore uguale a 1, considerando questi due membri. E poi, utilizzando questi altri due membri, scrivendo da destra verso sinistra, ottengo 5x meno 6 maggiore uguale di meno 1. Risolvo ora le due disequazioni. Porto il meno 6 a destra, ottenendo 5x minore uguale a 7. Divido ora tutte e due membri per 5, ottenendo x minore uguale a 7 quinti. Per la seconda disequazione porto il meno 6 a destra e sommando con meno 1 si ottiene 5. Dividendo tutte e due membri per 5, ottengo x maggiore uguale a 1. Rappresento graficamente questi due intervalli. Per la prima disequazione devo prendere tutti i valori minore uguali a 7 quinti, e allora l'intervallo in questione è questo. Qui metto il pallino perché qui c'è l'uguale. Passo ora a rappresentare la seconda disequazione. x maggiore uguale a 1, e allora vuol dire che devo prendere tutti i valori da 1 in poi, e allora l'intervallo in questione è questo qui. La parte comune che viene verificata da tutte e due le disequazioni è questo intervallo, che può essere scritto in questo modo, parentesi quadra, 1, 7 quinti, parentesi quadra, e questo rappresenta il dominio di questa funzione. Vediamo quest'altro esempio e calcoliamo il dominio di arco coseno di 3 meno x. Dovrò imporre che l'argomento di arco coseno, ossia 3 meno x, deve essere compreso tra meno 1 e 1, estremi inclusi. Devo allora risolvere questa catena di disequazioni e riscrivo queste relazioni utilizzando un sistema di disequazioni, e avrò 3 meno x meno uguale a 1, utilizzando questo membro e questo membro. E poi, fissando l'attenzione su questo membro e questo membro, ma scrivendo da destra verso sinistra, avrò 3 meno x maggiore uguale di meno 1. Ho così due disequazioni che vado a risolvere. Ottenendo dalla prima x maggiore uguale a 2 e dalla seconda x minore uguale a 4. Vado ora a rappresentare graficamente gli intervalli di queste soluzioni. Per la prima disequazione devo prendere tutti i valori da 2 in poi, e allora l'intervallo soluzione è questo. Per la seconda disequazione devo prendere tutti i valori minori uguali a 4 e l'intervallo soluzione è questo qui. La parte comune che viene verificata da tutte e due le disequazioni è questo intervallo, ossia tutti i valori che si trovano tra 2 e 4 con 2 e 4 inclusi. E allora questo intervallo risulterà essere il dominio di questa funzione. Determiniamo il dominio di arco tangente di 1 su x. L'argomento di arco tangente in questo caso risulta essere 1 su x. Ricordiamo che la funzione arco tangente non genera nessuna condizione sul dominio. Dobbiamo allora vedere se vi sono eventuali condizioni di esistenza che derivano direttamente da 1 su x. Visto che f di x risulta essere uguale a 1 su x e questa funzione è una funzione fratta, dovremo imporre come condizione di esistenza che l'argomento di questa funzione, ossia x, deve essere diverso da 0. E allora posso dire che il dominio di questa funzione sarà costituito da tutti i valori che vanno da meno infinito a 0 unito da 0 a più infinito. In maniera del tutto equivalente avrei potuto scrivere che il dominio di questa funzione è composto da tutti i valori reali escludendo il valore 0. determiniamo il dominio di arcoseno di 2 fratto x più 2. L'argomento di arcoseno in questo caso è 2 fratto x più 2 e allora dovremo andare a scrivere che 2 fratto x più 2 deve essere compreso o uguale tra meno 1 e 1. Questa catena di disequazioni la vado a riscrivere come sistema di disequazione. La prima relazione la ottengo utilizzando questo membro e questo membro, la seconda relazione utilizzando questo membro e questo membro ma scrivendo da destra verso sinistra. Risolvo ora queste due disequazioni. Dopo aver portato i numeri a sinistra e fatto il minimo comune multiplo, nella prima disequazione, semplificando 2 e meno 2, ottengo meno x fratto x più 2. Moltiplicando tutte e due i membri per meno 1 avrò x fratto x più 2 maggiore o uguale a 0. Per la seconda disequazione, dopo aver fatto il minimo comune multiplo, sommiamo i due, ottenendo x più 4 fratto x più 2 maggiore o uguale a 0. Andiamo a studiare il segno della prima disequazione e della seconda disequazione. Per la prima disequazione poniamo numeratore maggiore o uguale a 0 e denominatore maggiore di 0, ottenendo questo studio del segno. Qui mi viene chiesto quando è che è maggiore di 0 e il maggiore o uguale a 0 lo vedo in questo intervallo e in questo intervallo. Per la seconda disequazione andiamo a porre x più 4 maggiore o uguale a 0 ed x più 2 maggiore di 0, ottenendo questo studio del segno. Visto che mi viene chiesto quando è maggiore o uguale a 0, allora l'intervallo soluzione è questo e questo. Per risolvere il sistema di disequazione, devo andare a determinare la parte comune di questi due intervalli. Ho rappresentato prima la prima soluzione e poi la seconda soluzione. La parte comune che viene verificata da tutte e due le disequazioni è composta da questo intervallo e questo intervallo che può essere scritto in questo modo. Da meno infinito a meno 4 con meno 4 incluso perché qui c'è un pallino, unito, apro la quadra, da 0 a più infinito. Metto qui la quadra perché 0 risulta essere incluso. Questo risulta essere il dominio di questa funzione. Andiamo a determinare il dominio di questa funzione. Arco tangente non offre alcun contributo sulle condizioni del dominio. Dobbiamo allora studiare le condizioni direttamente di f di x. In questo caso f di x risulta essere x più 1 fratto 1 meno x. Essendo una funzione fratta dovrò porre come condizione di esistenza che il denominatore 1 meno x deve essere diverso da 0, ossia x diverso da 1. E allora il dominio di questa funzione sarà da meno infinito a 1 unito 1 più infinito. Questo dominio lo possiamo anche riscrivere come r meno 1. Determiniamo il dominio di questa funzione. Arco tangente non dà alcuna condizione sul dominio e allora dobbiamo andare a studiare le eventuali condizioni che derivano direttamente da f di x. In questo caso f di x risulta essere logaritmo di x fratto x alla seconda meno 1. Come condizioni di esistenza dovrò andare a porre il denominatore, ossia x alla seconda meno 1 diverso da 0 e poi osservo che a numeratore ho un logaritmo e quindi l'argomento del logaritmo, ossia x, deve essere maggiore di 0. Ho questo sistema che vado a risolvere. Dalla prima disequazione ottengo che x deve essere diverso da più o meno 1. Dalla seconda disequazione ho direttamente x maggiore di 0. Rappresento ora graficamente questi due intervalli soluzione. Per la prima disequazione posso prendere tutti i valori escludendo meno 1 e 1. Per la seconda disequazione posso prendere tutti i valori maggiori di 0. La parte comune che viene verificata da tutte e due di disequazioni è composta da questi due intervalli, ossia tra 0 e 1 unito 1 più infinito e questo risulta essere il dominio di questa funzione. Vediamo quest'ultimo esempio. Abbiamo arcoseno di radice di x meno 1. Allora dobbiamo andare a imporre che l'argomento di arcoseno, ossia radice di x meno 1, deve essere compreso tra meno 1 e 1, con meno 1 e 1 inclusi. Vado ora a riscrivere questa catena di disequazioni sotto forma di sistema di disequazione. La prima disequazione la ottengo utilizzando questi due membri, la seconda disequazione la ottengo utilizzando questi due membri riscrivendo da destra verso sinistra. Risolvo ora le due disequazioni. Nella prima disequazione porto il meno 1 a destra, elevo poi tutte e due membri al quadrato ottenendo x minore uguale a 4. Nella seconda disequazione posso semplificare meno 1 con meno 1 ottenendo radice di x maggiore uguale a 0 e elevando tutte e due membri al quadrato ottengo x maggiore uguale a 0. Osservo che in questa disequazione avrei dovuto porre anche l'argomento della radice, ossia x maggiore uguale a 0. Non vado a riscrivere x maggiore uguale a 0 perché nel sistema è già presente. Rappresento ora graficamente questi due intervalli soluzione. Per la prima disequazione posso prendere tutti i valori minori o uguali a 4. Per la seconda disequazione posso prendere tutti i valori maggiori o uguali a 0. La parte comune che viene verificata da tutte e due le disequazioni è composta da questo intervallo, ossia sono tutti i valori compresi tra 0 e 4 con 0 e 4 inclusi e questo risulta essere il dominio di questa funzione. E con questo termino il tutorial su come poter andare a determinare i domini di funzioni goniometriche inverse.